passavano i treni di continuo oltre la campagna passavano auto e camion su e giù per lo stradone eppure non riesco a ricordare nemmeno un'occasione in cui chiedo a me stessa a mio padre alla maestra dove vanno le auto i camion i treni in quale città in quale mondo e 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 Voi voi!